Musica Sarà il Muscron a dare il calcio d'inizio di questa finale Under 18 si comincia Per fortuna Bertolini controlla e calcia! Raubo porta in vantaggio la Ciali con Gianco Fussal Appostato sul secondo palo fa 1-0 l'uomo più atteso Michele Raubo Tracciante di Bertolini col mancino perso Raubo dentro l'area di rigore da mezzo passo il numero 7 Porta in vantaggio la Ciali con Gianco E' il gol della Ciali con Gianco! Credo abbia deviato Genovesi sotto porta sul tiro di Conti 2-0 Per i genzanesi che sorprendono la difesa del Muscron totalmente impreparata in questa situazione 2-0 Palla regolata da Genovesi il fischio da parte del signor Maurizio Pirroca Comincio in questo istante Riparte grande giocata anche in fase difensiva di Michele Raubo che va in angolo da Bertolini Bertolini 3-0 della Cogianco che sfrutta alla perfezione la superiorità numerica dovuta all'espluzione di Jordan Pley 3-0 per i genzanesi Mazzucchetti Sergola Secondo palo Scioli 4-0 per la Cogianco Che gioca a memoria con l'uomo più 4-0 Puoi assegnare Raubo Che al momento è a pari merito con Bertolini e Plena nella classifica Marcatori Raubo Raubo Goal di Sergola nel frattempo 5-0 mentre in tribuna Grazie a tutti Grazie a tutti